Buonasera, arrabbiato contro la polizia municipale, che l'aveva multato, si è sfogato pesantemente su Facebook, ma ora rischia tre anni di reclusione. Protagonista un 25enne sassolese, M.C. le sue iniziali, che aveva pubblicato e poi rimosso un post su Facebook ritenuto denigratorio dai vigili di Sassuolo, che hanno sporto denuncia per diffamazione, aggravata dall'uso illecito e smodato dei social network. Tantissimi sassolesi hanno affollato oggi pomeriggio il Duomo per dare l'ultimo saluto a Massimo Andreoli e stringersi attorno alla moglie Giussi, ai figli Mattia e Nicole e alla sorella Monica. Andreoli, 64enne, dirigente di Emil Ceramica, era deceduto sabato scorso allo Sporting Club, mentre faceva la doccia dopo una partita di tennis. Un volantino di chiara matrice fascista, raffigurante alcune scritte e un fascio littorio, è stato attaccato alla lapide commemorativa della brigata brasiliana, che liberò Sassuolo il 23 aprile 1945, che si trova nella rotatoria tra Viale della Pace e Via Circonvalazione. Il manifesto, firmato dal sedicente gruppo I Camerati, è stato prontamente rimosso. Indaga la polizia. Passiamo allo Sport. Fermento in casa Sassuolo, in vista dell'importante gara contro il Verona, che potrebbe proiettare i neroverdi in zona Europa League. Nell'intervista, il commento del centrocampista Lorenzo Pellegrini. Il Verona, contro ogni previsione, vi ha tenuto in corso per l'Europa e adesso potrebbe regalarvi altri punti utili per l'Europa. Bisogna andarli a prendere domenica. Sì, il Verona ci ha fatto un bel regalino, ci ha fatto passare un buon lunedì. Adesso, come avevo già detto, anche dopo il pareggio contro la Sampdoria siamo ancora in corso. Fino a che il campionato non finirà, noi ci giocheremo le nostre carte per raggiungere questo nostro piccolo sogno e siamo in corso, lottiamo domenica cercando di prendere i tre punti e almeno di far sentire al Milan che ci siamo. Dopo le due sconfitte, ci credevate ancora o c'è stato un momento in cui avete detto magari non ce la facciamo più o ci avete sempre creduto? Io devo dire che è capitato nell'intervista di mercoledì contro la Sampdoria ed ho detto le stesse parole che sto dicendo ora. Noi, finché la matematica non ci dirà che sarà impossibile raggiungere l'Europa, noi lotteremo fino alla fine e cercheremo di raggiungerla con tutte le nostre forze. Quindi, a maggior ragione, il Milan ha perso punti, quindi siamo ancora più vicini e gli facciamo ancora sentire di più la pressione, il fiato sul collo. Ha fatto un'impresa il Verona, però anche voi a Torino avete fatto qualcosa di simile a un'impresa soprattutto perché eravate abbastanza contati come Rosa, pochi uomini ma che ce l'hanno messa tutta. Sì, in questo momento stiamo pagando i molti infortuni e le molte assenze di tanti, forse troppi giocatori, però comunque sia, come ho già detto, questo qui per noi è un piccolo sogno, quindi siamo noi, siamo in pochi ma buoni, quindi perché non lottare fino alla fine? Quindi ci siamo e ce la giochiamo partita dopo partita per cercare di arrivare sesta e raggiungere l'Europa. Siete sempre pochi o magari qualcuno potrebbe rientrare, che tu sappia, insomma, da quello che avevi visto negli allenamenti? Ma che io sappia non ho nessuna novità, però insomma speriamo che qualcuno possa tornare per darci una mano, per darci magari qualche chance in più anche per poter essere sostituiti o per poter giocare e quindi nulla, insomma. Speriamo che qualcuno rientri in maniera da renderci il tutto anche un pochino tutto più semplice. Probabilmente domenica riusciremo veramente a capire se siamo lì, se possiamo giocarcela oppure se possiamo fare le ultime due partite più tranquillamente, ovviamente anche in base a quello che farà il Milan. Però credo che insomma domenica, per ora domenica è la partita più importante della stagione. Poi speriamo che lo siano anche quelle dopo, perché vuol dire che è andata bene domenica. Abbiamo delle rotazioni minime, è vero, ma forse stiamo in questo periodo, stiamo nel periodo migliore della stagione. Vediamo tutti i giorni i nostri dati e i nostri dati ci dicono che corriamo sempre di più dell'altra squadra. Questo credo che sia una cosa fondamentale per noi e credo che bisognerà continuare così su questa strada, almeno correre più degli altri, avere più cattiveria. Poi insomma si sa che il calcio è dato dagli episodi e quindi non si può mai sapere, però correre e mettercela tutta credo che sia il minimo che possiamo fare. Credo di essere migliorato in tutto e credo di avere dei margini di miglioramento in tutto. Nel senso che sono arrivato qui, che venivo dalla primavera, sì, venivo da cinque mesi aggregato alla prima squadra, ma non è mai come essere un giocatore vero e proprio della prima squadra, proprio a livello di allenamenti, a livello di intensità, a livello di attenzione, nel preparare le partite e nel giocarle anche. Quindi sono molto contento e mi reputo molto fortunato di aver scelto di venire qui. Lo rifarei e spero che questa crescita possa prolungarsi anche a quest'altro anno, magari puntando già dall'inizio della stagione a qualcosina di più, visto che quest'anno ci siamo resi conto di poter essere tranquillamente tra le prime d'Italia. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci domani. Grazie a tutti.